Era appena scesa dall'autobus di linea, che la riportava a casa dal lavoro, alla pensilina delle via della Repubblica, in località a due strade, a Fornace di Barga, attraversata in corrispondenza dell'incrocio, ma quando arrivata dall'altra parte, è stata investita da una lancia Y, che svoltava per rimettersi nella centralissima via del paese ed è rimasta uccisa. Un dramma che si è consumato attorno alle 12.50 di oggi, 29 aprile, a Fornace di Barga. La vittima è una insegnante di 56 anni, grazie a Vigorito, di origine campane, ma abitante a Fornace. Sbalzata a terra dall'urto con l'autocondotta da un giovane uomo, anche lui appena ucciso dal lavoro, ha battuto evidentemente la testa ed è morta sul colpo. Vani sono risultati tentativi di rianimarla da parte dell'ambulanza e delle misericordie del Barghigiano e del personale dell'automatica di Barga. Non c'è stato niente da fare. A dare l'allarme è stato il conducente dell'auto, è sceso dalla lancia Y, disperato, e ha chiamato il 118, mentre altre passanti intervenivano per prestare aiuto. Anche questo, tutto inutile. I rilievi del terribile incidente sono stati affidati a carabinieri, arrivati sul posto con le pattuglie della vicina stazione di Fornace di Barga e con rinforzi della radiomobile. Stando ad una prima e ancora sommale ricostruzione, la donna è stata investita in corrispondenza dell'incrocio fra Via della Repubblica e Via Provinciale. Un incrocio che per chi vuole immettersi in Via della Repubblica fa una curva a gomito. È qui che la lancia Y ha avortato la donna, che purtroppo è caduta a terra all'indietro sbattendo la testa.